Grazie a voi, non c'è bisogno di nessun applauso, vi ringrazio per questo invito perché credo che sia molto importante aprire un nuovo capitolo di discussione sulla nuova situazione economica che stiamo vivendo perché sicuramente l'emergenza pandemica e sanitaria, la recessione economica che ha eseguito ha modificato qualcosa, io credo che l'abbiamo modificata anche in senso non soltanto congiunturale ma anche un po' più strutturale. Come avete sentito da Jack Copley c'è stato un periodo in cui il processo di finanziarizzazione è diventato il motore dell'accumulazione capitalistica, quello che creava valore. Sussumendo la sfera reale, se posso usare questo termine, in grado di intervenire nei meccanismi di finanziamento soprattutto delle nuove corporation multinazionali della platform economy, del capitalismo e delle piattaforme, garantendo quelle liquidità necessarie per l'investimento in ricerca e sviluppo e nella dinamica tecnologica degli algoritmi. Poi i mercati finanziari sono anche intervenuti nel meccanismo di sostituzione dello stato sociale, sempre più liberalizzato e finanziarizzato, Jack Copley parlava di finanziarizzazione della vita, un termine che già nel convegno di Uninoma nel 2009 quando è uscito il libro La grande crisi economica globale parlavamo di questi temi e la finanziarizzazione dello stato sociale crea diseguaglianze, distorsioni e polarità che sono quelle che oggi noi vediamo. E in terzo luogo i mercati finanziari, in questa vulgate, in questa visione dove i mercati finanziari svolgevano le magnifiche sorti progressive del capitalismo, svolgevano anche un'opera di redistribuzione del reddito, non soltanto perché il profitto diventava rendita ma anche perché componenti salariali per le fasce dei lavoratori più professionalizzati potevano attingere ai capital gains e alle plusvalenze generate dai mercati finanziari. C'era un divenire rendita del profitto ma anche un divenire rendita di parte della forza della massa salariale. Questo è stato, lo dico non abbiamo tanto tempo, il leitmotiv che si è sviluppato fino alla crisi del 2007-2008 in maniera incontrastata, il pensiero unico diciamo, come si diceva a quei tempi. La crisi del 2007-2008 ha evidenziato che questo meccanismo di accumulazione aveva qualche problema, era instabile e la fuoriuscita negli anni successivi è stata quella di, con una testardia perficace e idiota, di perseguire questo modello di finanziarizzazione come motore dell'accumulazione capitalistica spremendo ancora di più quelle che erano le istanze di spesa pubblica, di distribuzione del relito che non passasse attraverso i mercati finanziari, ovvero precarizzazione del lavoro, riduzione minimi termini della contrattazione sindacale, cercando in questo modo di recuperare quella liquidità spremendo il lavoro vivo, io uso il termine spremere per usare l'eufemismo perché il termine corretto sarebbe sfruttamento sempre più pervasivo e sempre più allargato non soltanto del tempo di lavoro ma sempre più del tempo di vita, ai fini di recuperare quella liquidità che la crisi finanziaria aveva perso. La crisi sanitaria ha evidenziato e questo è il punto di novità che vorrei porre alla vostra attenzione, che questo tentativo di iperfinanzializzazione ha comunque le gambe corte perché la crisi sanitaria ha creato dei lockdown, perché se è vero che la finanza domina l'economia reale, la finanza attrae l'infa dall'economia reale, soprattutto quando parlo di economia parlo del lavoro vivo, il lavoro della logistica e il lavoro cognitivo, il lavoro della cooperazione sociale, che siamo noi che su Facebook, su queste cazzo di piattaforme creiamo la possibilità di essere finanziarizzati e di farci espropriare della ricchezza che noi siamo in grado di creare. Allora quando c'è stato il lockdown c'è stata una ristrutturazione all'interno del capitale, le piattaforme hanno soltanto goduto e hanno aumentato il loro potere a dismisura, perché hanno sfruttato il lockdown per sviluppare ulteriormente e accelerare il processo di digitalizzazione e di piattaformalizzazione se posso usare questo termine, già in movimento, ma dall'altra parte ha creato tutta una serie di blocchi, di nodi e questi nodi comunque non sono neutrali rispetto ai processi di creazione di ricchezza, crea dei problemi all'interno delle forme più tradizionali del capitale, quelle che erano rappresentate da Trump per intenderci. Tutto questo è aggravato, ma lo dico perché bisogna tenerlo sempre presente, dal problema energetico globale della sostenibilità ecologica. Allora cosa si è deciso? Si è deciso di ovviare, compensare questa situazione di forte instabilità e di crisi che avrebbe potuto scatenare delle reazioni incontrollabili attraverso un cambio di passo radicale di politiche fiscali e di interventi degli stati a sostegno della creazione di liquidità. Quella liquidità che i mercati finanziari in seguito all'emergenza sanitaria non erano più in grado di garantire nella misura in cui erano in grado di garantirla prima. Già in parte colpite dalla crisi del 2007-2008. E allora ecco che abbiamo che il governo statunitense decide di fare un piano di 5 anni di 6.000 miliardi di dollari, una settimana fa Biden ha stanziato per il prossimo anno 1.200 miliardi di dollari a sostegno degli investimenti in infrastrutture e a sostegno dei redditi delle famiglie meno ambienti americane. Negli Stati Uniti si discute di portare il salario minimo a 15 dollari. In Europa si risponde con il recovery plan e il next generation Europe. 800 miliardi di euro, 780 per l'esattezza, che nei prossimi sei anni dovranno essere distribuite ai paesi europei per creare quel sostegno all'economia necessario perché il processo di finanziarizzazione possa continuare a essere il volano dell'accumulazione. E garantire quella distribuzione distorta in uguale del reddito che non sia troppo distorta. Perché lo sappiamo, lo dicevamo quando facevamo i movimenti per l'insolvenza, la gallina va spremuta perché faccio le uova d'oro, ma se tu la spremi troppo e la gallina muore, le uova d'oro te le sogni. Quindi bisogna essere attenti e precisi nello spremere e nei livelli di sfruttamento e nei livelli di estrazione del valore della vita, dalla nostra vita. E allora bisogna fare delle politiche fiscali di sostegno e di spesa pubblica. Ma come vengono, e qui arriva la conclusione, ma come vengono fatte queste politiche fiscali? Ha fatto scalpore la notizia del G8 finanziario di Londra, o G7 o quel che l'era, di creare una tassa globale sui profitti del 15%. C'è un problema. Queste piattaforme che hanno un valore di borsa pare alla somma del prodotto interno Londro dell'Italia, più quello della Spagna, più quello della Danimarca, quasi 5.000 miliardi di dollari, 4.800 miliardi di dollari secondo le ultime stime, pagano come sappiamo sul patrimonio accumulato e sui profitti maturati della liquida fiscale dell'1%, la gallina è troppo strozzata, bisogna porre il rimedio. E cosa facciamo? Imponiamo una tassa globale per evitare il dumping fiscale di cui l'Europa, nonostante quel che si dica della cooperazione europea e della solidarietà europea, è l'emblema più alto a livello mondiale di paradiso fiscale e di dumping fiscale all'interno dei paesi europei, di mettere una tassa del 15%. Una tassa del 15% che è la tassa minima, attualmente è già esistente sui profitti, solo due paesi hanno una tassa inferiore al 15%, l'Irlanda e il Lussemburgo, gli altri hanno Germania, Spagna eccetera, l'Italia ovviamente fa la solita figura, tasse superiori, quindi si abbassano le tasse sui profitti perché tutti pagano i profitti, è una cosa un po' paradossale, vi ricordate quando c'è lo slogan? Lavorare meno per lavorare tutti? Ecco questo è stato preso pari pari per dire si paga meno profitti per tutti per pagarli meno, questo è il progetto da questo punto di vista e nel frattempo si fanno delle discussioni che verranno discusse a Venezia il 9 e 10 luglio prossimo per una regolamentazione delle politiche fiscali e delle politiche finanziarie in maniera da andare incontro a questo obiettivo di creare quel minimo di sostenibilità e di liquidità necessario per la ripresa che mantenga inalterato attraverso investimenti pubblici un livello di domanda e quel livello di finanziarizzazione che potrebbe entrare in crisi. E come viene fatto questo intervento del pubblico? Attraverso una logica che è quella che ormai è stata sperimentata nei sistemi di warfare anglosassone statunitensi e inglesi di quella filosofia che si chiama new public management, ovvero far sì che l'intervento pubblico gestito da società che sono state liberalizzate, quindi sono diventate SPA, quindi società che devono produrre dei dividendi, anche se la proprietà in maggioranza rimane statale e magari viene finanziata come il caso di autostrade, comprata per il 55% da cassa depositi prestiti, o come la nuova società che dovrebbe garantire i 5 giga, controllata per il 51% da cassa depositi prestiti ma dal 49% da team e da un fondo di investimento statunitense, la proprietà formalmente rimane a maggioranza statale ma le regole di gestione sono quelle dell'efficientismo privato, cioè devono produrre profitti che vanno ad aumentare i dividendi e i capital gains delle società che partecipano alla gestione di queste società miste che dovrebbero gestire i finanziamenti del recovery plan, quindi dare l'infa di nuovo a quelle che sono le esigenze di capitalizzazione, finanziarizzazione e di profittabilità delle grandi imprese private. Questa è la nuova politica fiscale che si sta facendo, non si pensa di fare una politica fiscale e usare questi soldi per invece intervenire sul lato del welfare. C'è un fatto, la prima versione del PNRR italiano che è stata presentata in Parlamento il 27 aprile dove era molto scritto ben chiaro che l'intervento pubblico doveva diminuire la gestione diretta del pubblico e dare outsourcing ai privati nel trasporto locale, nella gestione dell'energia eccetera eccetera, gli esempi servono tantissimi, non c'è il tempo per fare l'elenco, aggiungeva anche che nella riforma degli ammortizzatori sociali si sarebbe dovuto introdurre un salario minimo legale. Poco, ma il poco è sempre meglio che il nulla. Nella versione che è passata e andata a Bruxelles questo riferimento al salario minimo globale è chissà come mai del tutto scomparsa senza che nessuno fiatasse. Questo vuol dire che tutto questo piano di investimento pubblico per la ripresa economica sulle tematiche di welfare non dice nulla e non può dire nulla se la logica è quella che sta dietro a quanto abbiamo detto prima. E allora cosa dobbiamo fare noi il 9 e il 10 a Venezia? Quali sono le richieste che un movimento che mi auguro possa svilupparsi da quelle giornate debbe con forza chiarire? Che ci sia una politica monetaria che finanzi direttamente il sistema di welfare nelle forme di reddito di base incondizionato accessi ai beni comuni ai commons e la campagna che già era partita qualche anno fa del Quantity Vision for the People. Non so se qualcuno ne ha sentito parlare. È una politica fiscale che non vada a finanziare investimenti in infrastrutture dannose o che ancora hanno un modello di sviluppo energetico che a parole si ammanta di energie rinnovabili ma mantiene gli stessi criteri che già conosciamo e dannosi per l'espropriazione ecologica. Ma una politica fiscale che immagini un welfare del comune, un common fair, finanzi un reddito di base e finanzi servizi essenziali perché consenta a noi l'autodeterminazione come strumento di lotta e di liberazione personale. Grazie a tutti.